stavre sono finito oggi vi porto l'epoca del macro rabbit e ti porterò domenica alla tredicesima tappa di storia ehm vabbè gioco gioco macro rabbit come ho già detto e porto anche side dextra iniziamo subito dalla main back per schiulabili staples rigorosamente secret sei gialli cover saber poi doppio guai va staples doppio tour sangue assailant gioco un riparare e borda come parini ehm traps triplo max c ehm non d'un action veiler perchè da me cioè io credo che gli entraps si facciano a seconda dei mazzi che girano nel proprio paese perchè non in tutte le fumetterie ci sono mazzi tipo mermail o windup e visto che da me ci sono sia mermail che windup che profesi a volte invece caos dragon protocard portagent porta caos dragon porta sempre mazzi diversi lol e visto c'è che non non mi servirebbe a molto veiler e infatti lo gioco di side poi ho 3 tifoni ivy eeeh reborn e dark hole poi due calici questi fanno da veiler praticamente ehm c'è come giocare a due veiler di main e appunto due calici ehm trap doppio macro staples grossissimo due warning e un solenne candy chain tt bottomless mirror e una ripresa per x extra laggia barca shockmaster papillo pertin the master carriera gemma eutopia i rank 4 bio canta d si poi in maniera serrati di golem leviathan tempi tempi del ritmo come 3 e c'è anche un leviare che non ho qua al momento che che ho in fumetteria c'è comunque in team ne abbiamo 3 si prestano poi abbiamo un veiler doppio battle father così a caso, molto random dorei io chid snowman doppio trago come mostri terzo calice non è costo soprattutto contro giorgia per negare l'effetto o di arsenale o di acceleratore e metto anche il veiler c'è per negare scusate armor non l'acceleratore 2 ddr questa carta è veramente grossissima scarti una e ti riporta il coniglio praticamente è un leviare per questo che non mi ha fretta a prendere leviare un solte e' e r e' due e' niente questa era la deck profile spero vi sia piaciuta e' ovviamente domenica sera al giorno prima dei rinizio di scuola porterò la il report il buon che dire nient'altro se voglia dopo posterò il trade ma non so e boh ciao ragazzi e se non augurato buon anno nei precedenti video perchè mi sono dimenticato le auguro ora e buon anno a tutti buon anno 2013 e ciao ciao